E che pensieri stai facendo? Ciao a tutti e a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Vabbè la intro, l'hai fatta te oggi, siamo qua per fare lo stesso gioco dell'altra volta però con l'influencer italiano più bello Che l'abbiamo già qua ragazzi, sono io, sono proprio bellissimo Sto scherzando non ci sono neanche nella classifica Tu non ci sai Non ci sono mai Perché non ci sai niente Che non mi caga la gente Ma non ha senso come cosa Perché dobbiamo ancora arrivare a questi livelli di essere nelle classifiche Ma perché fai cose diverse fai? Molto in breve per chi non ha visto il video dell'altra volta, se lo vado a vedere trovo il link in bio Dobbiamo votare l'influencer Devo votare E lui mi aiuterà Mano a mano si eliminano le persone finché non arriva un vincitore, quindi partiamo Via Giocare facciamo 32 Ok, io ho un po' d'ansia Influencer italiano più bello Il Vets o Jody? Io li conosco tutti eh Io no A primo io non li conosco, questi due non li conosco Però secondo me A me piace di più Vets Il Vets Vets, giusto Vets Sì dai anche secondo me Luca Campolunghi o Marco Matteucci che non so chi sia Luca Sì vado su Hanno due occhi verdi e occhi azzurri Oddio ma due occhi diversi Luca Ma va, sono azzurri Mi sa che devi mettere gli occhiali No sembra un occhio, vabbè Sespone Due persone diverse Ma come parla, è ubriaca oggi Ma quello è un cuscino di Louis Vuitton È una borsa Diciamo Ah vai dai soldi tu Sespone No Però potrebbe piacermi di più Sespone Potrebbe essere Ma tu sei fidanzato Eh vabbè qua non guardare però dai Eh non guardare Ma come non guardare Devo guardare per favore Vabbè tanto lo so già a sinistra dai Ehm Chi è sto qua? Eh vabbè cercatelo No veramente non l'ho mai visto Neanch'io Cosa fa? Vabbè penso Davide Vado su Davide Qua c'è un serpente nelle spalle Anche tu Matteo Robert O Michele Basile Che non so chi sia Direi Robo E come Robert Matteo Robert Ma il suo cognome è vero Robert? Sì vabbè Ma è inglese? Ma non lo so Matteo Robert Manca una O Se non è Matteo Roberto Valerio Mazzei O Mariano Prank Lui fa i prank A me piace più Valerio Valerio A me piace più Valerio Ma sono tutti uguali Questi ragazzi Parla normale ti prego Ok ok Quella c'è un filtro Marco Cellucci Oddio Marco Cellucci Ma È quello È quello Non lo ricordo O Simone Berlini Vabbè Io li so i gusti della mia ragazza E Simon Vado su Simon Lei cambia i nomi della gente Simon Mura o George Chupilan Si può astenersi dalla scelta Ci si può astenere dalla scelta Dai ma Allora Ovviamente Nessuno si deve offendere Sono soggettivi Allora Sulle ragazze Hai detto Eh no Perché i gusti sono soggettivi Qua mi posso astenere No Anche dei maschi No vi spiego Perché non è per offesa Sono bei ragazzi Però non sono gusti Nessuno Vabbè manco a me Nell'altra classifica Erano gusti Che mi piacevano Tutte e due Ho dovuto scegliere così Non c'era mai quella perfetta Qua Va bene Mi piace di più il mare Il mare ti piace Sì scelgo il mare Eh ti piace di più il mare Eh scelgiamo il mare Molto facile Ma è difficile No no qua è facile Sì Perché io so che per Chiara è facile Dai ti piace più lui Lo so Sì forse sì Ma che pensieri stai facendo Ti devo arrabbiare Sto guardando È difficile Amo Forse sì Forse Cristian Vai Ergenalo Erbuccio 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 Poi 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 Andrea Fratino Patrizio Morellato Andrea Andrea Fratino Andrea in smoking Blur o Tommy Cassi Tommy Cassi Tommy Cassi Che è nostro Compaisano Concittadino È vero Giulio Vese come noi Riccardo Casini O Luis 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 Sal Confermi Confermo Ok Fede Asso o Leo Cifero Forse Fede Fede Sì Anche lui è compaisano Genovese Simon o Yusuf Yusuf Yusu Pensieri No Pensieri Scusate Scusate Iniziano le eliminazioni Luis Erbuccio 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 O Yusuf Puccio Vai 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 Sei velocissima Vai 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 Cristiano o Luciano Cristiano E' mia E' un V Valerio Valerio Tommi Cassi Valerio So tutto ormai Ma li conosci? Pa 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 Davide Vai vai Ma li conosci? Come li conosco? Eh non lo so Sì li vedo ogni giorno Ogni sera Perché fai così Luca Sespo Io qua mi devo preoccupare Sespo Non assomiglia a quella della casa della carta La casa della carta Dove cosa vendono? Lo scotex Casa di carta Casa del pappé Comunque Consigliami Io sespo Forse sespo Sì sì vai vai C'ha quel fascino particolare Andrea Andrea fratino Siamo quasi alla fine ragazzi Lei è molto più veloce di me Frattemelo Perché io credo è più chiare Matteo Simone Matteo No scusa Simone 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 100% 100% Brumotti Andrea fratino Il vesto Sì Ma perché Sembra carina la sta foto Poi in realtà non l'ho mai visto Cioè magari sì però Te lo faccio vedere al volo? Ok Me l'hai fatto vedere Scelgo Andrea 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 ho rivalutato un pochino Ok qua siamo proprio all'apice Come un po' Come prima con Alessia Lanzaga e Gaia Bianchi Davide Vavala Cristia Cristia Pensavo Davide sai Sì No Cristia Credo Sespo Simone Berlini Fabietto Sespo Simone Berlini Mi fa vedere anche Sespo un ottimo Penso Sespo Sespo? Sì 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 Sespone Mi sta simpatico Anche a me sta simpatico Sì No vabbè però anche a me Come non lo conoscevi? Valerio Mazzei e Sespo? Sì Valespo Sì Mi ricordo qualcosa Ti ricordi qualcosa? Puccio Valerio Mazzei Valerio Cristian Daloi e Valerio Mazzei Siamo alla semifinale ragazzi Cristia Cristian poi ti passo il contatto Che scello E la finale Cristian o Sespo Rudy Tamburi Ok rifallo I miei amori Rifallo Sespo Veramente? Vai Ha vinto Sespo Un applauso Un applauso a Sespo Grande Sespo Sono felice perché Sespo è uno molto d'ispirazione per me Bene Perché lavora un botto e fa le cose bene Figo Quindi Sei felice che abbia scelto Sespo? Sì Perché è una persona matura come me Che sa quello che vuole e tutto quanto Quindi Ora lo andrò a seguire Ora devi seguirlo Ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto Ovviamente arriviamo a 1000 like Ok Ma io direi un po' di più 1000 like era quello di prima Sì 2000 like Sespo Se vedi questo video Iniziaci a seguire E speriamo di arrivare a 2 milioni come te Vuoi dire qualcosa? È stato divertente Grazie a tutti Un giorno organizziamo un'uscita con Sespo E con Alessia Alessia Va beh una bella uscita qua Ci sta Ma lì ci sta E al prossimo video scriveteci qua sotto Che video fare E ovviamente scrivete anche Che avreste scelto voi Un bacio Che avreste scelto voi Che avreste scelto voi Grazie a tutti.